Le frecce tricolori 2020 Lupin d'ingresso, la prima manovra del programma acrobatico delle frecce tricolori il verde, il bianco ed il rosso della nostra bandiera configurazione a triangolone che si arrampica ai 1500 metri per poi puntare verso il basso e chiudere questa prima manovra del nostro programma acrobatico alto la prima ed unica manovra ad essere eseguita da tutti e dieci iponi all'interno della stessa formazione ed eccola la prima separazione, tre sezioni il solista al centro che poi dirigerà alla nostra sinistra dalla quale entrerà con la prima manovra del suo programma nel frattempo le due sezioni disegnano due gigantesche foglie di quadrifoglio che si chiuderanno proprio davanti a noi allora puntiamo le fotocamere al centro della display perché sono cinque i velivoli alla nostra sinistra, quattro quelli alla nostra destra tre, due, uno, in croce!